Ciao Ho messo un bel fiorellino E ora mi riprendono il fiorellino Dammelo Ciao a tutti ragazzi, io sono Durp E io sono AngelFantasy E oggi siamo al secondo episodio della Dropper Challenge Yeah, Dropper Challenge Ok Aspetta, come mi salgo? Come mi salgo? Eh, cioè, così, ok Ci sei? Sì, è che non ci sono... Ok, ci sono... Non stavo capendo più niente Non capisco, cioè, ci sono tastini troppo piccoli in questa tastiera Tastini piccoli in tastiera piccola Ok, iniziamo Va bene, va bene, le regole sono le solite Mi sto incastrando E non barare, divertirsi, giocare, divertirsi, giocare Non barare, divertirsi, giocare Ok, la scorsa volta abbiamo fatto quelle facili Siamo arrivati? Siamo arrivati? Boh Allora Allora Cosa? Lava pit Ma che lava pit? Dove sei? Ecco, esatto Al parkour L'avevo finito, sì Sì Ok, facciamo la lava pit Lava pit Oh Che cosa fa? Lava pit Dove sei? No, io l'amo, questa è troppo bella Non ci sei? Eh, arrivo con calma Ah, con calma Eccomi, ciao Bisogna saltare, vero? Mi stai a prendere in corsa? Non ho posato in corsa Non riesco, non riesco neanche a prendere... Ok, ci fate Oddio Bravissima Mi va troppo scatto, non riesco a fare niente Ah, bisogna mettere... Oddio Sto andando Ho preso la lava, ho preso la lava, sto morendo, sto morendo Easy Bisogna mettere lo spawn point Ah, già Lash Spawn Ho scagliato Pfff Ok, ci sono Troppo indietro Ah, che stai morendo? Ciao Mi va scatti, perché mi va così scatti, Ale Dai, dai che ce la faccio Dai, che ce la faccio Dai, ce la faccio Dai, ce la faccio E ora? Oh, 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 mio Dio Oh, mio Dio Divendare di so... C'è l'acqua, sono... Ah, è finito Ah, 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 sono morta Sono arrivato No, questo è quello dove non si trova il trofeo È uno dei tanti Ecco, sì, bello Ah, ragazzi, in ognuno bisogna alla fine trovare il trofeo e collezionarlo Sì, giusto, non l'abbiamo neanche detto Vabbè, se bisogna arrivare in fondo a questi dropper e sarebbe... Beh, lo diciamo, trovare il trofeo, poi è difficile trovare in realtà Serena? Eh, arrivo, sto morendo, cioè, non è coppia mio Nell'acqua direi che non c'è È che c'è troppa lava Nella lava non ci voglio andare Ci vado? Mettolo Spawn un po' in tu qua? No No Noi non bariamo Vabbè, ma io ho già finito il livello Eh, non è barare Forse era in una piattaforma sopra, ma... Boh, non penso Corriiii Perché vado a fuoco? Mi sa che non ho corso No, qua giù non c'è niente Ah, ora qua? Ma non penso Siamo con te, Serena Ti dobbiamo vedere spuntare dal soffitto di lava Magicamente Ti è piaciuta? No Simpatica Ciao Eccoti Ok, andiamo Eh, se sei felice tu lo sai batti le mani Se sei felice tu lo sai batti le mani Sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrei se sei felice tu lo sai batti le mani Come rovinare un video, no scherzo, scherzo No, bollino, bello Andiamo Andiamo Qua, qua, qua cosa c'è? Magari è qua Vai pure, te se la cavia, vai Stai vorrendo però Forse da altra parte Vini da me Arrivo Geronimo Verrofoco Ah, stai rifacendo tutto No, si può essere Stai riuscito Eccoti Sopra di me Ok, io vado qua, provo Provo Non c'è un cavolo C'è troppo fuoco qua Non c'è niente Non c'è niente Ah, sono di nuovo qua Vediamo che arrivi Se non vado a fuoco, sì Arriva Vieni a fare un tuffo in piscina Ale Oddio, 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 eccomi Sono qua Ciao Ok, basta, andiamo alla Hub Ti sei bloccata sulla pedana a pressione Brava Dio, quanto mi vasco Vabbè, ci sono riuscito lo stesso Sì, sei arrivato adesso da me a te Dove sei? Ah, sei qua Vado, vado Oh, sbagliato, era questo Spam po' Oh, fiorillini Wow No, aspetta, qua tube Ah, se ti arrendi in pratica Io metto lo spawn point, perfetto Non so, non so cosa bisogna fare Occhiattina veloce Allora Direi che non dobbiamo morire Per cui io mi butto Mi sono impallata, mi sono impallata di nuovo Mi impallo Sei ancora lì Bisogna andare nell'acqua, giusto? Sì Ce l'ho fatta E poi? Io mi butto Dove vai? Ci sono i blocchi trasparenti Già Devo andare nell'acqua, che non ho capito Bisogna andare tipo nelle... o nell'acqua Qui giù, qui giù dal teschio Sì, devi prendere la aragnatela Ah, non c'è Ah Niente, una aragnatela Ci faccio andare, scusami Ah, c'è il coso trasparente Cosa c'è scritto? Non lo so Non raccomandato Non raccomandiamo questo Sono ancora vivo Uh Non so se è così che si fa, però Vabbè Sono nella aragnatela Mi va a scatti No, 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 sono morta Dai che ce la facciamo Sì, se non la si può di scatti Magari anche, anche, c'è Forse dovevamo andare dall'altra parte, ora che ci penso Io seguo il teschio Bravissimo Ale, hai seguito il teschio Ragnatela È lì giù la aragnatela, dai Eh, sto arrivando con calma Ce la posso fare Non dirò la te No, no, no Che colotto freddo Ok Poi Dove la aragnatela, scusami Boh, trovala Non c'è qua? Ah, dice dell'acqua, io andrei nell'acqua, mi piace di più Non c'è qua Dove sei Ale? Sto seguendo i lì teschi, basta che segui teschi Aspettami però Ah, sono appena morta Ah, qua, qua, qua Io segui tu i teschi, ma sono morta Sono sul pollo, io E io sono ancora qua Teschio Eh, ragnatela Io metto a che vado da questa parte Oh, io non salto, prendo se l'ora in corsa Sono dal maiale, io Pig E ora bisogna andare lì senza prendere la lava Prendere, cadere No, sono morta Non posso morire adesso, alla fine Io ho provato a scendere dall'altra parte Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Sono arrivato in fondo Magari mi aspettavi però, cioè Oddio C'è una galleria Sto morendo Sono appena morta di nuovo Non mi piace questa galleria The end Hai trovato il trofeo Congratulation No Where is il trofeo? Eh, anch'io lo vorrei sapere, grazie Tu sei andato già via? No Bisogna trovare il trofeo Andare giù Puff E trovare il trofeo alla fine Qua c'è Cosa c'è qua? Alla hub Qua c'è la lava Ok E questo è fatta Da qui non mi ricordo dove devo andare Quello è il problema Dove sei? Sul blade Blade Vai sul pollo Non mi ricordo come si chiama Sul pollo Devi scendere un po' Ma muoio? No Se non è troppo In giù no Sì che è in giù Sono su un blade Ah, lì c'è un ragnatore No Non ha funzionato Non riesco a farlo Perché vado troppo a scatti È qua Sì Ho trovato il trofeo Ora manchi solo tu Sono all'inizio io Non riesco neanche a fare il primo salto Non ci riesco Vabbè mi arrendo Brava Vieni pure Vieni pure Eccomi Oddio Scusami Fa vedere la tua testa Cerca il trofeo Almeno quello cercalo Non me lo ricordo Mi sa davvero È qui È qui È qui Vieni Vieni da me Vieni 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 Vado a scatti Ti sto dicendo vieni da me e vai dall'altra parte Esatto Brava Ti sto dicendo che è qui Qui c'è la lava Qui torna indietro Di là c'è una cosa rossa Verde, marrone, blu Poi gira a destra Sempre a dritto Svolta un po' leggermente Sulla destra Troverai un fossato In quel fossato Troverai delle scale E dentro le scale C'è il trofeo Puoi Puoi L'ho trovato spontaneamente da sola Tutto sola Sì, veramente Non posso più correre Ah, io sì Grazie Sempre ho tirato una spinta Appunto, grazie Ma Ma vada a scatti Ma Congratulations Grazie Ok Andiamo nei baule Datemi la vita, per favore Baule Mi ucciso e vengo da te Intanto mi parte il mouse Poi non ho capito Perché rinasco qua Ah, non rinasco qua Perché non ci sono più i trofei? Non lo so È vero Vabbè Noi li abbiamo presi Guardate il video precedente E lo vedrete Esatto Cosa stai facendo? Sto cercando di muovermi Ah Il prossimo è Computer Time È quello dove bisogna saltare Questa testa È bellissima, è bellissima Andiamo Andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Allora Aspettiamo che si carichi Perché qui È una Allora Get some help with your jump Sì, l'aiuto per saltare Get help with your jump Cos'è che c'è? Beh, qua dice some E qua dice solo Ok, bisogna saltare Questo è stato veramente bravo a farlo Ha fatto benissimo quel computer Saltare dentro la vaschetta lì La vaschetta Sono caduto, no È un bicchiere Aspettami, aspetta che vengo da te No, che cavolo dico Ah, bisogna mettere La spawn point Spawn point Cioè, scordiamo sempre Ovvio Ce la possiamo fare Ecco qua Perché qua poi lo metti? Cosa ridi? Cosa ho scritto? Cosa cavolo ho scritto? Vabbè Così T Sette Ok Tralasciamo i dettagli Cosa gli dì? Va un po' Cos'è? Non me ne lo vedo Vabbè, basta Ok, io vado eh Anch'io Mio Dio, se salta Cioè, no 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 Vedo Non vedo Non vedo Non vedo Primo colpo Brava Sta bevendo da bicchierone gigante Vai, ti guardo da qua Non ce la faccio Ciao Addio Ti fa una spinta? No Ciao Ale Sono morto Vai Ale Vai Ale Vai Ale Ciao Ce la posso fare Non ce la posso fare Sul bordo Hai visto il mio cadavere? Volare Volare Cadere in acqua Questo teschietto è bellissimo Io lo amo Se vuoi te ne do uno anche a te Però ce l'ho solo normale Hai caricato metà scrivania Vedo solo la vasca Ma Dio mio Com'è il fatto? Aspetta ti do una spinta Mi metto qua e ti aspetto Ti do una spinta Dai che ce la faccio Dai Bello il sottomouse No Grazie Spinta proprio Non ci sono riuscita Salto da qua Forse funziona meglio Volevo rallentarti Ma non è venuta Non è che vado alla hub Il migliore è quell'altro Il primo salto è il migliore Il primo Volevo dire il primo Cosa Capito? Sì Ti ho ucciso È stato buffizio Devo saltare più tardi Salto qua C'è più di così Ragazzi Ma perché è sempre lì? Io ti colpisco Oddio che risolta hai fatto? È troppo bello Perché ti colpisco e muori È troppo divertente Ah ma io ti voglio bene Davvero? Sì Io no Dai Ale Su che ce la fa? E su? E su? E su? C'è arrivo sempre lì Non c'è verso Guarda Guarda Sono cascata Ma dai Posso neanche aiutarti adesso Tanto non mi aiutavi Tra un po' torno anch'io a farlo Se no ti do un tot di tentativi E poi tocca venire qua Col te Ti prego Il mio cadavro cade sempre in acqua Arrivo anch'io So salto qua Allora Eh per forza Però senza rincorsa così E vado giù Vado nel cestino a sto punto Faccio prima Iuuu Tanto muori nel cestino Proviamo di qua Non mi viene più neanche a me Ah Ops vabbè Se ce la faccio Tanti teletrasporti eh Va bene Perché tanto l'hai già fatto È che devo saltare più tardi Ho scagliato stavolta Dai sempre al bordo Non è possibile Ma prima te eri arrivata all'inizio proprio Cos'è sto rumore? No io ci sono arrivata Cosa vuol dire Er' arrivata all'inizio? Dio quanto va All'inizio della vasca? No ero Era arrivata appunto Non è che ero arrivata all'inizio Cosa vuol dire? Cioè non capisco Sei entrata Vabbè basta Lascio stare Sì sei entrata giusta Cioè ero sul bordo Però sei entrata per bene Ah ok sul bordo Sono tornata alla hub Bravissima c'è più di così non posso farci niente pure sbattuto contro il ti prego sempre lì sempre lì guarda dove sono sei giù mi sento trasportato da te non è colpa mia vabbè adesso lo faccio io non varo che poi sono stupida perché potevo entrare ma io avevo messo lo spawn point io perchè se ne ero qua beh sei andata la hub quando torna la hub te lo do la resetta non lo sapevo ok sto sbagliando qualcosa devi partire più tardi so c'è parlo subito attaccato al muro è una libreria questa ecco ho sbattuto ciao oh giriamo un po' la visuale libri documenti dove sei? cosa fai? ti vedo partire ci sei riuscita? dai vieni qua ce lo devo fare devi accettare la tua sconfitta nooo si vabbè faccio un giretto dai vieni qua dai trasportati ultimo tentativo ok adesso mai più ok tanto tanto ce l'ho fatta grande Ale vieni qua vieni qua vieni qua ora perché stiamo facendo questo basta va bene ok devo far vedere un po' qua c'è il mouse la pittà del mouse è bellissimo ah gioca a minecraft il vecchio minecraft si con 2d è stupendo guarda questo qui è il coso di windows ah si ah tieni guarda il galino wow non è bella come la mia però è bella mi piace più la mia faccia qua scriveva beh allora se ti butti muori devo andare di qua devi andare giù devo andare dentro la vasca e fino qua ci siamo ah è la città del cane è stupenda allora io mi ricordo dov'è la il trofeo si è sopra la lampada e come ci si arriva non mi ricordo con il salto che è questo qua ah ecco che però non mi ricordo come ci si come si faceva perché non mi ricordo bene no perché o ci vai troppo lontano allora muori se ci vai troppo vicino allora sono qua anch'io vieni da me ok se ci vai troppo vicino non va c'è adesso muori perché sbatti sopra e schiatti non vedo più niente sono morta ecco ad esempio qua ero troppo vicino e sono di nuovo qua vieni qua perché sono qua io perché ero io lì ah ci sei riuscito no come facciamo no allora dobbiamo scendere no non puoi vabbè è sfortuna non va non va non mi dà il trofeo devi aspettare che si ricarichi la pressurplace pressurplace e ora si salta scazzato ah che pazienza e sta così e adesso muori esatto poi gli altri parti che geppa e lo rifaccio e ci riesco il primo colpo ok vado alla UBA che dietro al computer ma dai come mai lo so non puoi uscirci io ci riprovo a fare no vabbè non mi va non va la UBA vai la UBA eh ok congratulations grazie yeee perché come c'è arrivare c'è la UBA dietro al computer eh lo so ma devo far tutto il giro si cammina corri prossimo è H-E-Double ok sei riuscita yeee ti sei teletrasportata no che scansa fatiche ma chi è che si teletrasporta nessuno no veloce dove stai andando boh non so faccio un giro metti il trofeo ah giusto andiamo ok questo che cavolo eh ok sticks ah carino questo ah bisogna buttarsi si vabbè è uno dei tanti cioè si chiama dropper sai chissà per quale motivo boh lasciamo che si carichi un po' il mondo ragazzi perché qui io al diavolo io mi butto lo vedo difficoltura mi sono buttata lo spam point l'hai messo no no ops qua wow allora è tipo ma c'è la lava devi andare nella lava vero si devi riuscire ad entrarci io ho fatto tutto però mi sono bloccata la lava ok cosa ho fatto perché che è esattamente al centro per cui non so no idea di come farò anche perché non riesco a caricare il mondo no allora di qua si va ho scrivato di là ce l'ho riuscita ah di qua ci prova eh c'è il buchetto qui che va alla lava infatti 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 ce l'ho fatta e anch'io perfetto vai stavolta pareggia direi si dove è il trofeo allora quindi siamo aspetta una vinta da te una pareggiate una vinta da me oh no qua è uno che è il trofeo è tipo da cercare in tutta la mappa esatto nella lava torni giù già quindi qua no non lo so va bene niente il trofeo ma come voglio dire che magari facciamo un video in più per trovare i trofei che non abbiamo mai trovato perché l'ultima volta che ho fatto questa ci sono stata dietro per un'ora e mezza a cercare il trofeo per cui vedi te e non l'ho mai trovato per cui ciao oddio cosa hai fatto con la bocca ho fatto le bollettine ok io vado ciao probabilmente bisognerebbe fermarsi da qualche parte non lo so ci ho provato ma non è che è qua nell'acqua no vero no ci ho appena guardato io ah ok perfetto va bene torniamo alla hub yay mi so che non vai te vado io vabbè ragazzi direi che per questo è tutto aspettami ok ah scusa arriva vieni qua vengo lì dove sei ciao con le nostre stupendissime maschere oh scusa oh non volevo ferire i tuoi sentimenti con le nostre stupendissime maschere perché ti siedi anche io mi siedo mi riposo un po' giusto ci sta dopo tutti questi salti morti eccetera ci sta mi sono mosso mi raccomando mettete un mi piace iscrivetevi al canale soprattutto guardate i nostri video guardate anche quelli precedenti che sono molto belli e scriveteci nei commenti cosa ne pensate che ci interessa un sacco sapere il vostro parere e niente nei prossimi episodi della dropper challenge faremo i prossimi livelli esatto va bene ciao bella ciao 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 Ciao